Ornella Vanoni è una cantante e attrice italiana. Considerata tra le maggiori interpreti della musica leggera italiana, è una delle artiste italiane e dalla carriera più longeva. In attività dal 1956, ha pubblicato 112 lavori e rientra tra le cantanti, con il maggior numero di vendite, con oltre 55 milioni di dischi. Ornella Vanoni ospite a Verissimo racconta del rapporto che ha con il trombettista Paolo Fresu. L'ho conosciuto che era sconosciuto. Quando l'ho sentito suonare per la prima volta, mi ha colpito il cuore. Poi ha colpito il cuore di tutto il mondo. È sempre in giro e non si capisce come faccia. Oggi è in Cina domani a Bari, mi dice sempre, finché ce la faccio. Ha raccontato la protagonista assoluta della musica italiana. Gli ho anche chiesto di suonare al mio funerale. Lui mi ha detto, se muoio prima io canti tu al mio. Gli ho detto va bene, dice scherzando Ornella Vanoni a Silvia Toffanin che resta stupita dalla naturalezza, con cui la cantante affronta il tema della morte. La morte fa parte della vita, prosegue la cantante da ragazzi. Non ci si pensa poi quando si arriva a questa età. È chiaro che non sia più davanti mille anni. Da un momento all'altro, potrebbe capitare, e allora bisogna viverla senza timore. Senza paura conclude.